Il Cardinale Arcivescovo ha nominato alcuni canonici per il capitolo metropolitano. Saranno canonici statutari i Monsignori Adriano Pinardi, padre spirituale del Seminario regionale, Marco Bonfiglioli, rettore del Seminario Arcivescovile, Fabio Fornalè, cancelliere Arcivescovile. Saranno canonici onorari i Monsignori Paolo Marabini, arciprete di Cento, Gabriele Porcarelli, arciprete a Sant'Agostino, Lino Stefanini, parroco emerito a San Giovanni di Casalecchio, a Rigo Chieregatti, parroco a Pioppe e Salvaro. L'insediamento avrà luogo nella prima domenica di avvento.